Ciao a tutti amici TestoPils e benvenuti a una nuova puntata di elaborazione con PixInsight, oggi parleremo dell'elaborazione bicolor. Quando parliamo di elaborazione bicolor in realtà intendiamo la combinazione di due canali di emissione, due bande di emissione degli oggetti dello spazio profondo e in particolare si fa con le nebulose questo tipo di tecnica e le bande in questione sono quello dell'idrogeno ionizzato Hα e l'ossigeno terzo. L'elaborazione bicolora, o meglio la combinazione di questi due canali, di queste due bande di emissione di per sé non è complessa, in realtà è una semplice formula di PixelMath, ma quello che ne viene prima e come prepararvi a quella somma di canali è la cosa alla quale dovete prestare più attenzione. Innanzitutto fatemi fare una precisazione molto importante, in fase di acquisizione quello che dovrete fare non dovrete privilegiare uno dei due canali, non dovrete privilegiare l'idrogeno α e non dovrete privilegiare l'ossigeno terzo, dovrete cercare di avere lo stesso rapporto segnale rumore dei due canali, questo perché poi in fase di somma se ad esempio voi avete un Hα che è molto forte, che ha molto segnale, ha un rapporto segnale rumore altissimo e invece l'ossigeno terzo è un po' più indietro con il rapporto segnale rumore perché avete acquisito meno segnale, perché l'oggetto in questione ha poco ossigeno rispetto all'idrogeno, cosa che succede con le nebulose ad emissione che spesso sono molto ricche di idrogeno e meno di ossigeno. In tal caso dovete compensare questa disparità tra segnale rumore dei due canali perché altrimenti, come vi dicevo, quando andrete a fare la somma potreste avere dei problemi e soprattutto quel rumore dell'ossigeno terzo vi andrà a contaminare anche una Hα, anche se questo dovesse avere un rapporto segnale rumore altissimo. Altra cosa molto molto importante è preparare le due immagini in modo tale che abbiano lo stesso valore mediano di fondo cielo e soprattutto anche lo stesso rapporto nel diametro delle stelle, perché quando voi fotografate le stelle a banda stretta soprattutto con l'idrogeno le stelle tendono ad essere molto piccole, con l'ossigeno invece che prende una banda dello spettro un po' più alta, anche nel mio caso ad esempio ho un idrogeno, un filtro Hα da 6 nanometri e un filtro ossigeno terzo a 12 nanometri, è chiaro che le stelle a 12 nanometri verranno più larghe, più grandi rispetto a quelle a 6 nanometri. Quindi una cosa molto importante quando si preparano le immagini prima della somma è di portare le stelle a un valore di diametro che sia quanto più vicino possibile. Passiamo al dunque e andiamo a vedere nel caso specifico questo che ho fatto io con la nebulosa Nord America, in particolare il dettaglio del muro del cigno. Se avete seguito anche le stories su Instagram, se mi seguite su Instagram o avete visto il post YouTube quando ho pubblicato l'immagine, questo è l'oggetto che andremo ad analizzare oggi. Innanzitutto andiamo a vedere le due bande che sono state acquisite. Qui a sinistra abbiamo l'Hα, come potete vedere ha un rapporto segnale, un rumore altissimo perché la nebulosa Nord America, come tutte le nebulose ad emissione, come dicevamo prima, è stra stra ricca di idrogeno. Se voi andate a guardare il dettaglio del fondo cielo, guardate, qui non è stata fatta nessuna riduzione rumore, quindi vedete il rumore è praticamente inesistente. Invece andiamo a vedere l'ossigeno che seppur abbia cercato di raccogliere quanto più segnale possibile, forse avrei dovuto fare di più e questa è un'autocritica che ho fatto anche da altre parti. Vedete la differenza che c'è nel rapporto segnale rumore delle due immagini, pur avendo una quantità di segnale in termini di totale ora esposizione molto molto vicina, ma l'ossigeno tende a soffrire di più perché ha un'emissione minore in questa nebulosa e pertanto il rumore si fa più spazio a discapito del segnale. La parte di elaborazione bicolor si fa, perlomeno io la faccio subito in fase lineare. Ho visto alcuni tutorial e alcune persone che lo fanno in fase non lineare, ma personalmente per me è un po' troppo più complesso farlo in quella fase. Preferisco fare la calibrazione dei due canali quindi Hα e ossigeno terzo, dopodiché fare la rimozione dei gradienti dove necessario, fare la deconvoluzione separatamente soprattutto se il rapporto segnale rumore è così diverso come nelle immagini che vediamo qui e dopodiché subito dopo la deconvoluzione passo a fare la fusione tra Hα e ossigeno terzo. Dopodiché il workflow continua normalmente, quindi farò la riduzione del rumore, poi farò lo stretching, aumento dei dettagli, curve, colore e via discorrendo. Ma diciamo che si colloca nell'elaborazione, la combinazione tramite i pixel matti di questi canali si colloca subito dopo la deconvoluzione. Quindi abbiamo calibrazione, riduzione gradienti, deconvoluzione e poi abbiamo la combinazione. Come fare questa combinazione? Innanzitutto come vi dicevo prima, come vedete le stelle presenti qui nella parte di idrogeno sono leggermente più grandi e anche più accese, quindi quello che ho dovuto fare, ho dovuto creare una star mask abbastanza protettiva per quanto riguarda la parte di ossigeno, questa è la star mask dell'emissione dell'ossigeno e utilizzando il tool Morphological Transformation con la star mask applicata sono andato a ridurre il diametro delle stelle. Qui adesso nell'immagine non è ancora stato applicato il processo, l'avevo appena fatto l'undo per farvi vedere l'effetto ma andando ad applicare Morphological Transformation vedete che il diametro delle stelle adesso è piuttosto simile, molto molto vicino, certo non si può arrivare proprio adesso a farlo avere identico ma deve essere molto molto vicino perché altrimenti se avete delle stelle più grandi da una parte poi avrete degli aloni a seconda della dominante che avete. Raro vedere delle dominanti, degli aloni rossi ovvero avere delle stelle in H alfa più larghe che in ossigeno terzo, quindi solitamente questi aloni tendono ad essere blu. Una volta fatto questo e una volta fatta anche la deconvoluzione del soggetto possiamo passare alla fusione dei canali e questa è la parte tra virgolette più semplice, è la preparazione che conta nell'elaborazione bicolor, dall'acquisizione quindi cercare di avere un rapporto segnale rumore quanto più vicino possibile e poi anche a livello di dettaglio e diametro delle stelle, ecco perché anche la deconvoluzione è molto importante per cercare di non perdere il dettaglio nel momento in cui si va a fare la fusione dei due canali. Ultima cosa prima di utilizzare pixel matte è quello di fare il linear fit delle immagini perché vi dicevo che bisogna portare il valore di fondo cielo, il valore mediano, bisogna portarlo allo stesso livello per ovviamente come sempre non avere una dominante dell'una e dell'altra e per fare questo con PixInsight è molto semplice, c'è il processo di linear fit che trovate sotto process color calibration linear fit e quello che dovete fare è scegliere l'immagine di riferimento tra le due e andare ad applicare il processo all'altra. Quale immagine scegliere? Attenzione ascoltatemi bene perché questa cosa qui è molto molto importante, quando andate a scegliere l'immagine di riferimento per il linear fit dovete scegliere l'immagine che ha il rapporto segnale rumore peggiore. Perché? Perché se voi andate a scegliere l'immagine che ha il rapporto segnale rumore migliore, se in questo caso io scegliessi l'idrogeno alfa, andando a fare il linear fit sull'ossigeno terzo il rumore verrebbe bustato, pompato in qualche modo e quindi peggiorerebbe la situazione. Meglio andare a, che poi non è neanche depotenziare, è più che altro avere un po' meno contrasto nell'immagine che ha il rapporto segnale rumore maggiore, quindi scegliere come reference image, in mio caso andrò a scegliere l'ossigeno terzo e andrò ad applicare il linear fit all'halfa. Questo farà sì che il valore mediano delle due immagini, o meglio che, parliamo di immagini monocolori quindi abbiamo solamente una curva di histogramma, ma farà sì che queste due curve di histogramma si vada a sovrapporre quanto più possibile il linear fit quindi non fa altro che trovare una corrispondenza tra le funzioni che esprimo i due histogrammi dell'halfa e dell'ossigeno terzo e va a farli matchare in modo tale che appunto c'è un fit lineare tra i due. Fatto questo, nel mio caso qui ho già fatto quindi non rifarò perché non darebbe nessun effetto, possiamo passare a pixel mat, quindi andiamo su process all processes e pixel mat che troviamo qui. Allora andiamo a vedere come utilizzare pixel mat. Innanzitutto vogliamo, non vogliamo utilizzare una singola espressione RGBK, ma vogliamo andare a definire per ogni canale quale informazione andare a prendere da quale immagine. Facciamo un'elaborazione HO classica, quindi diciamo che il rosso sarà il nostro halfa, quindi l'identificatore della vista halfa, il verde sarà l'ossigeno terzo e il blu sarà l'ossigeno terzo. Poi andiamo qui, mettiamo create new image, diamo come image identifier, lo chiamiamo HOO e color space, ricordatevi di mettervi RGB color, perché se mettete same as target, questo è in scala di grigi, quindi vi uscirà un'immagine in scala di grigi, quindi applica. Andiamo a vedere l'immagine, strecciamola e vedete che le stelle, questa è una particolarità e a mio avviso anche un po' un difetto, perché quando sono così blu sinceramente non mi piacciono le stelle. Vedete che è bello il contrasto, il colore che c'è all'interno della nebulosa e non vi preoccupate se i colori sono tenue e molto pastello quando fate questo genere combinazione, perché è normalissimo, succede sempre così. Poi in fase di elaborazione non lineare, con localistogram normalization o con le curve andiamo a spingere e a creare più contrasto e saturazione, quindi sempre quando fate il pixel matte l'immagine tende ad essere un po' morbida, quasi pastello e la vedete anche qui. Non vi preoccupate perché poi andremo, non in questo tutorial perché vi faccio vedere solo come combinare l'informazione bicolore, poi il resto lo trovate negli altri tutorial della serie su come fare ogni altro step di elaborazione, comunque dicevo qui le stelle sono un po' troppo blu. Una formula che io tendo a preferire, andiamo a vedere se facessimo un blend sul blu tra l'ossigeno terzo e l'Hα, quindi andiamo a dare nel blu ossigeno terzo per 85, quindi un 85% di ossigeno terzo e poi ci andiamo a sommare un 15% di Hα. Vediamo che differenza c'è. C'era un errore di sintassi, scusatemi, ho messo il punto prima, quindi ossigeno terzo per punto 85, Hα per 15, quindi 85% ossigeno e 15% Hα. Strecciamo l'immagine, beh adesso vedete che già le stelle tendono a essere meno blu, ma sono ancora un po' troppo blu. Questo perché più che blu, si vira un po' più sul verde perché l'ossigeno certamente rappresenta il colore verde nell'emissione delle nebulose e in questo caso andiamo quindi a cercare di ottenere un blend tra ossigeno terzo e Hα anche nel canale verde. Andiamo, che so, a provare per 8, quindi 80% più un 20% di Hα per punto 2. Vediamo un po'. Ok, adesso come vedete le stelle hanno un colore già meno, cioè una dominante celeste più accettabile nell'immagine. Le stelle hanno un colore non naturale, ma più naturale rispetto a prima. Un altro, andiamo a chiudere un po' di finestre, un altro tipo di blend che si può fare, vi faccio vedere, questo è molto interessante, è un blend che somigli un po' alla paletta di Hubble, però ovviamente qui non avete lo zolfo secondo soltanto con due colori, si possono ottenere colori molto simili alla paletta di Hubble, non identici, ovviamente manca lo zolfo, però ci si avvicina abbastanza. Per fare questo andiamo a dare ossigeno terzo, andiamo a dare un 65% di ossigeno terzo e un 35% di Hα. Lasciamo il blu come era, quindi 85% ossigeno terzo e 15% Hα, e diamo applica. Come vedete l'immagine qui vira più sull'arancione, che ricorda un po' la palette di Hubble. Quello che poi da qui andando avanti con l'elaborazione, quindi facendo la riduzione del rumore e così via, vediamo che a livello di rumore un po' è aumentato in questa regione, rispetto, fatemi chiudere le altre immagini, ce ne sono tantissime aperte, rispetto a quello che avevamo qui nell'Hα, possiamo andare a paragonare le due regioni di cielo, qui è sicuramente più pulito, qui si è insidiato l'ossigeno terzo, però anche grazie a questo blend parziale dell'ossigeno terzo, quindi non un HOO puro, quindi Hα nel rosso e ossigeno nel verde e nel blu, ma con una presenza maggiore di Hα anche negli altri canali, perché soprattutto ricordiamo ragazzi che l'idrogeno ha due linee di emissione, abbiamo l'idrogeno ionizzato primo e l'idrogeno ionizzato secondo, rispettivamente Hα ed Hβ. L'Hα va ad emettere nella lunga frequenza, quindi nel rosso, stiamo sui 656 nanometri, invece l'idrogeno β che è presente in tutte le nebulose che hanno emissione di idrogeno e il rapporto solitamente tra Hα e Hβ è del 20%, quindi un quinto. Laddove sia presente 100 di segnale Hα ci sarà un equivalente presenza di idrogeno β. Infatti spesso si disquisisce anche sul fatto se ha senso avere un filtro a banda stretta idrogeno β quando si può ricavare dall'idrogeno α. In realtà sì, perché è vero che il rapporto è di 1 a 5 ma non è così lineare, è statisticamente. La cosa migliore sarebbe acquisire l'idrogeno β a parte. Idrogeno β, come vi dicevo, che invece ha uno spettro di emissione luminosa nella fascia del blu, quindi siamo intorno ai 450 nanometri se non sbaglio e lì abbiamo l'emissione dell'idrogeno β. Quindi è importante che la Hα contribuisca al colore blu e come vedete ne contribuisce quasi in una misura del 20%. Infine prendiamo ad esempio questa qui che è più simile alla paletta di Diablo, vi faccio vedere velocemente con Curve Transformation come possiamo tirar fuori un po' più di colore. Supponiamo che abbiamo fatto tutto il resto e vi faccio vedere come in realtà si può tirare fuori il contrasto e non rimarrà così debole e pastello il tutto. Già andando a spingere, qui siamo tra l'altro in un'immagine lineare quindi dobbiamo essere molto delicati con le curve, altrimenti rischiamo di avere un risultato troppo troppo drammatico, però come potete vedere andando a creare il giusto contrasto, è veramente difficile ragazzi con Curve Transformation in lineare non lo uso praticamente mai, però vedete che già viene fuori la struttura della nebulosa molto di più, lavorando anche sui componenti A e B del colore possiamo, qui ragazzi è veramente molto molto difficile, cercherò in qualche modo di, ma probabilmente conviene guardate facciamo velocissimi, stracciamo questa immagine giusto per toglierci ogni dubbio al riguardo, quindi stretching ultra veloce con Screen Transfer Function, andiamo aprire Instagram, Instagram Transformation, facciamo velocissimi ragazzi non vi faccio perdere tempo, perché utilizzarlo in lineare è veramente un massacro, però voglio ci tengo a farvi vedere come dal pastello poi si riesce a passare a un colore più concreto, quindi chiudiamo tutte queste finestre, apriamo Process Curve Transformation, eccoci qui, resettiamo il tutto, mettiamo Live Review, ok ci siamo, quindi dicevamo prima andando a creare un tipo di curva di stretching che crea più contrasto, di solito è sempre questa curva un po' ad essere, crea questo genere di effetto, lavorando sul componente B vedete andiamo a spingere di più l'idrogeno, scusate l'ossigeno, guardate che bel blu comincia a venire fuori, lavorando con la saturazione andiamo a dare più colore all'immagine, lavorando sulla luminanza possiamo anche lì creare un po' più di contrasto, insomma vedete che soltanto con 2-3 punti su una curva abbiamo già creato dei dettagli molto molto più interessanti, poi immaginatevi con il resto degli strumenti facendo la riduzione delle stelle e via discorrendo verrà fuori un'immagine davvero molto molto bella, io personalmente l'ho elaborata e ci sto rimuginando molto perché poi vi farò, ve ne parlerò, un altro tutorial della, ho voluto acquisire le stelle in RGB per non avere queste stelle blu e le ho volute ricombinare dopo, però si è rivelato un po' un bagno di sangue la cosa perché non è stata così semplice, ci sono riuscito con StarNet ma non come volevo, quindi diciamo che la mia immagine è stata pubblicata ma è ancora un work in progress perché non sono convinto e vi invito anche a voi senza farvi ossessionare dalle vostre foto di riguardarle sempre il giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo perché anche a distanza di anni si possono rielaborare e scoprire che quei dati che avevamo valevano molto molto di più di quello che credevamo. Per la puntata di oggi ci fermiamo qui, elaborazione bicolor H-alfo, ossigeno terzo, uno dei capisaldi dell'elaborazione in narrowband in banda stretta, a seguire dopo l'elaborazione bicolor sicuramente c'è la palette di Hubble che però richiede un terzo componente che è quello dello zolfo secondo. Abbiamo anche altri tipi di elaborazioni per la banda stretta dove addirittura possiamo fare un'elaborazione idrogeno-ossigeno-idrogeno come vi dicevo acquisendo l'idrogeno beta invece che utilizzare l'ossigeno per il blu, possiamo fare elaborazioni di tipo H-alfa RGB quindi RGB con un boost H-alfa, ragazzi la banda stretta la possiamo combinare un po' come vogliamo. E una cosa che ci tengo a dirvi è questa, probabilmente è importante da fare presente, quando facciamo l'elaborazione in banda stretta il risultato a cui si mira quando si fa un'elaborazione e si acquisisce a banda stretta non è tanto una rappresentazione reale di quello che è l'oggetto soprattutto da un punto di vista cromatico, la banda stretta deve servire ad isolare emissioni specifiche di un oggetto dello spazio profondo, nel nostro caso le nebulose che è quelle per cui ha senso utilizzare la banda stretta soprattutto se sono nebulose a demissione. Ma quello che ci tenevo a dirvi è che è difficile dare una rappresentazione del colore naturale e non bisogna per forza mirare a quello. L'idrogeno, è vero che l'idrogeno H-alfa siamo abituati a vederlo come rosso ma non ho detto che debba essere rosso perché è una rappresentazione scientifica che tende ad isolare i componenti e quindi il colore ve lo potete scegliere voi quindi potreste anche fare l'idrogeno verde, potreste farlo viola, grigio, come vi piace perché l'obiettivo di un'immagine a banda stretta è farvi capire in quel corpo ovviamente dando poi una leggenda e un'informazione su che cosa vogliono dire i colori di che cosa c'è, che elementi ci sono e come sono composti e come interagiscono tra loro poi che dal punto di vista tradizionale la H-alfa sia rosso, l'ossigeno si tende a fare verde, blu e così via ok ma se voi volete fare l'idrogeno viola, l'idrogeno marrone o quello che sia lo potete fare, è appena in interpretazione artistica e a vostro gusto quindi non state a sentire chi vi dice no ma l'idrogeno non è rosso l'idrogeno tra l'altro è l'emissione, è nello spettro del rosso non è detto che se noi stiamo dando una rappresentazione scientifica dobbiamo per forza rappresentarlo come rosso perché se vogliamo isolare come dicevo i componenti quello che conta è che siano distinguibili e ben calibrati detto questo per la puntata di oggi ci fermiamo qui come sempre se vi è piaciuta questa puntata lasciate un mi piace se avete domande al riguardo fatele nei commenti e come sempre vi risponderò il prima possibile se vi piace questo canale iscrivete e cliccate sulle campanelle in basso per attivare le notifiche per questa sera fermiamoci qui io vi auguro una buona serata, dei cieli sereni e ciao!